Il Vallo di Diano per effettuare i test su circa 4.000 persone in totale che riguardano il tampone naso faringeo, test rapido su goccia di sangue e test sierologico su sangue su prelievo venuso. Sui siti internet ufficiali dei comuni di Sala Consilina e Polla sono disponibili i link per prenotare il test sierologico. In particolare Sala Consilina, la cui iscrizione è già possibile sul sito ufficiale, renderà noto nelle prossime ore modalità, orario e luogo per l'effettuazione dei test che saranno realizzati nei giorni del 25, 26 e 27 giugno. Polla invece, sin da questa mattina, ha reso disponibile la piattaforma per la prenotazione sulla home page del sito del Comune che si chiuderà automaticamente al raggiungimento del numero massimo consentito per ciascuna categoria divisa per età con i test che potranno essere effettuati a tutta la popolazione senza alcun limite fino al raggiungimento del numero dei test consentiti. Sala Consilina e Polla sono i comuni dove saranno effettuati più analisi rispettivamente 2.500 e 1.000. Il Comune di Polla, guidato dal reggente vice sindaco Massimo Loviso, ha già reso noto le modalità di effettuazione degli esami che avverranno nei giorni del 24 e 25 giugno presso il polo scolastico di Polla Capoluogo dalle ore 9 alle ore 18 divisi in gruppi che vanno dalla A alla H in base all'età. 9 saranno i test effettuati su bambini da 0 a 9 anni 72 su ragazzi da 10 a 19 anni 123 sui giovani da 20 a 29 anni 134 riservati a persone di età compresa tra i 30 e i 39 anni 159 dai 40 ai 49 anni 190 dai 50 ai 59 anni 153 dai 60 ai 69 anni ed infine 160 test sono riservati alle persone di età pari o superiori a 70 anni.